Sono Stefania Bellucci della LR Immobiliare di Roma in Viale Somalia numero 6 e oggi siamo a Labaro esattamente a Colli d'Oro per proporvi un bellissimo appartamento completamente ristrutturato di 120 m2 L'appartamento si compone di un grande salone Pagano da LR Immobiliare di Roma in Viale Pagano da LR Immobiliare di Roma in Viale Pagano da LR Immobiliare di Roma in Valle Regalare di Roma in Valle una bella cucina abitabile due camere singole una camera matrimoniale con il suo guardarobba con il suo bagno privato e poi abbiamo un secondo bagno l'appartamento è circondato da un bellissimo balcone abitabile ed in più come pertinenza abbiamo un posto auto in garage di 26 metri quadrati che dire non vi resta che venire a vederlo a e Grazie a tutti. Grazie a tutti.